In questa lezione trattiamo di Plinio il Giovane, che fu un autore di epistole vissuto tra l'età domizianè e l'età di Traiano, ma che rivestì cariche importanti proprio sotto l'età di Traiano quando appunto divenne console. Il nome di Plinio il Giovane era in realtà Gaio Plino Cecilio II, detto Plinio il Giovane per distinguerlo dallo zio Plinio il Vecchio, autore, come ben sappiamo, della naturalististoria. Plinio il Giovane nacque a Como nel 61 d.C. da una famiglia di ricchi proprietari terrieri. Potè studiare fin dalla giovane età eloquenza e filosofia, tra l'altro fu allievo di Quintiliano, e poi rivestì una serie di cariche importanti sia sotto Domiziano e poi sotto Traiano. Fu infatti tribuno militare nell'82, questore nell'88, pretore nel 93 e prefetto dell'erario tra il 94 e il 96, tutte cariche quindi che rivestì sotto Domiziano. Poi fu console nel 100 per volontà di Traiano e legato consolare in Bitinia, in Oriente, tra il 111 e il 113. Dal 113 in poi non abbiamo più sue notizie, quindi presumibilmente morì. Conosciamo attraverso le sue lettere che lui scrisse non soltanto epistole, ma scrisse anche opere poetiche e diversi discorsi giudiziari, però non ci sono pervenute nelle opere poetiche né i discorsi giudiziari. Tutto ciò che noi possediamo di Plinio il Giovane sono due opere. Il paneggirico straiani, che è un discorso celebrativo nei confronti di Traiano, in ringraziamento appunto del consolato ottenuto nel 100, e poi abbiamo dieci libri di epistole. Un epistolario quindi molto ricco. I primi nove libri trattano, diciamo, diversi argomenti ed hanno diversi destinatari. Sono state scritte quelle lettere dei primi nove libri tra il 97 e il 108. L'ultimo libro di epistole invece tratta il carteggio privato tra Traiano e Plinio il Giovane. Nel periodo in cui Plinio il Giovane era appunto governatore della Bitinia, quindi Plinio il Giovane aveva bisogno di una serie di conferme e di informazioni da parte di Traiano. Dalle lettere si vince bene il rapporto di amicizia che c'era tra i due e il rapporto quindi di fiducia, anche se ovviamente Plinio il Giovane si pone al di sotto dell'imperatore Traiano, che viene quasi venerato. Molto rapidamente andiamo a ricordare quali fossero le fonti, i modelli a cui senz'altro Plinio si ispirò. Sicuramente il modello principe di Plinio fu Cicerone. Seneca non fu un modello di Plinio, però prendiamo brevemente in considerazione anche Seneca perché scrisse, come ben sappiamo, anche lui delle epistole, appunto un trattato filosofico in epistole chiamato l'Epistole ad Lucilium. Partiamo quindi da Cicerone. Cicerone è scritta delle lettere autentiche, delle lettere destinate ad amici e familiari e raccolte poi in diverse, ovviamente, in diverse raccolte. Da un punto di vista tematico e stilistico, queste epistole si possono suddividere in quattro categorie. Abbiamo lettere private, scritte a familiari, a carattere, diciamo, proprio piuttosto diretto, quindi comunque delle lettere in stile semplice, in cui si utilizza un sermo quotidianus e che toccano dei temi familiari, quindi una certa colloquialità. Abbiamo poi lettere scritte per raccomandare qualche amico, quindi lettere sempre private, ma ufficiali, quindi ovviamente con una maggiore cura formale. Abbiamo lettere sempre scritte con grande cura formale, destinate a consolare qualche amico per la perdita di un congiunto. Sono delle vere e proprie consolazioni. Noi già abbiamo detto che Cicerone fu un autore di consolazione, se ricordiamo il De Lucdu Minuendo, che gli scrisse per la morte di sua figlia Tullia. Abbiamo detto che Cicerone fu quindi un modello importante anche per le consolazioni sesenecane, che fanno parte dei dialogorum libri. Però diciamo che queste consolazioni si informa anche privata, lui le scrisse appunto all'interno delle lettere. Ovviamente utilizzava tutti i topoi della filosofia atti a, diciamo, consolare per la morte. E infine abbiamo anche delle lettere private, un po' più scherzose, con un tono più ironico. Comunque tutte le lettere di Cicerone erano destinate appunto a dei destinatari reali, privati, e quindi non destinate alla pubblicazione. Le Vistole ad Lucilium invece sono un trattato filosofico in lettera. E quindi comunque sono probabilmente, come abbiamo già analizzato, delle lettere reali scritte da Seneca all'amico Lucilio. Nel momento in cui Seneca comunque voleva avvicinarla alla filosofia stoica, e quindi comunque indottrinarlo. Sappiamo che però queste lettere non erano destinate solo a Lucilium, ma destinate alla pubblicazione. Quindi il destinatario reale era molto più, diciamo, allargato. Senz'altro all'interno delle Vistole ad Lucilium, lui riprende temi filosofici già trattati nelle altre opere precedenti, ma ovviamente l'espediente delle lettere fa sì che questi temi siano sentiti come molto più vicini, più diretti. È chiaro che la saggezza degli insegnamenti filosofici si manifesta in maniera molto più spontanea all'interno di queste epistole. Il tono è persuasivo e non è dogmatico, come ci aspetteremmo da un trattato. Quindi c'è una modalità informale di interagire con Lucilio. I temi ovviamente sono anche molto vicini alla sensibilità e agli interessi della società, perché, come dicevo, le epistole ad Lucilium sono sì destinate a Lucilio, ma comunque anche ad un pubblico di lettori più vasto. Per quanto riguarda Plinio, invece, diciamo che le lettere sono disposte per argomenti, quindi il criterio è quello tematico, non un criterio cronologico, perché non viene rispettato alla cronologia delle lettere. Da un punto di vista formale, sono lettere molto accurate, molto, diciamo, molto depurate, molto ben costruite. E quindi è chiaro che Plinio scriva in funzione della pubblicazione delle lettere, quindi non scrive soltanto per un destinatario privato, perché sono presenti molti artifici letterari. Possiamo quasi dire che queste sue lettere siano un po' dei brevi saggi sui più disparati argomenti, che spaziano dagli affari pubblici alle situazioni private, i racconti di sogni, questioni letterarie e quant'altro, ma sempre, ripeto, con una accuratezza formale molto, molto elevata. Tornando invece al Paneggiricus Traiani, si tratta di un discorso pubblico in cui il principe viene adulato, soprattutto perché è considerato un principe ideale, e di Traiano viene adottata soprattutto la generosità e la possibilità che Traiano ha dato ai cittadini di esprimere liberamente se stessi le loro idee senza dover incorrere nella censura. E lo stile del Paneggirico di Traiano è sicuramente a imitazione dello stile ciceroniano. Non dimentichiamo infatti che Primo il Giovane fu allievo di Quintiliano e sappiamo bene quanto Quintiliano abbia esaltato lo stile di Cicerone, abbia preso Cicerone come modello di prosa. Ma è evidente anche che lo stile del Paneggirico è piuttosto enfatico, perché l'imperatore viene ovviamente lodato e celebrato. Ed è chiaro che appartiene al sottogiannere epidittico, quindi appunto dimostrativo. Per quanto riguarda invece lo stile delle epistole, le lettere sono apparentemente semplici, nel senso che sono fruibili in maniera molto diretta. Tuttavia sono molto costruite, molto architettate. Sono presenti delle clausole metriche, così come le utilizzava Cicerone, per dare musicalità e ritmo appunto alla prosa. Sono presenti sentenze di stampo epigrammatico, ovvero appunto delle frasi bravi e sentenziose ad effetto, presenti motti di spirito, presenti espressioni di lingua parlata. Ma cosa si intende per espressioni di lingua parlata? Non è realmente la lingua viva che viene scritta da Plinio, ma è una imitazione della lingua parlata. Plinio infatti qua e là inserisce qualche intercalare in greco, cercando così di imitare il parlato delle persone colte. Abbiamo detto che nell'epoca che va da Traiano, insomma, fino a tutta l'età degli Antonini, presso le classi dirigenti romane, c'era la consuetudine di possedere, di dominare due lingue, il latino e il greco. E questo bilinguismo trovava poi espressione anche in un intercalare continuo nel parlato di parole latine e greche. E questo cerca di riprodurre lo stesso Plinio il giovane, però dimostrando molta letterarietà nel modo in cui imita il parlato, che non è un parlato vivo, ma appunto costruito. Sono presenti citazioni letterarie e la prosa è sicuramente molto elaborata, ricca di figure retoriche. Tutto questo è spia del fatto che il destinatario di Plinio fosse colto e raffinato. A titolo esemplificativo andiamo a prendere un'epistola, che è la lettera che Plinio scrive al suo amico Fundano. è una lettera che praticamente dimostra come Plinio sia di fatto un signore, una persona importante. È una persona soddisfatta di sé, è soddisfatta delle proprie occupazioni, però sicuramente è anche un po' insofferente della vita di società ed è insofferente degli obblighi che la società gli impone. Quindi vorrebbe un po', desidererebbe in qualche modo appartarsi e quindi leggere in santa pace e scrivere, quindi senza dover, diciamo, sottostare ad una serie di obblighi. Però al di là del contenuto delle lettere, è molto interessante osservare proprio l'attenzione formale che Plinio pone alla lettera stessa. L'attenzione formale che ho sottolineato attraverso l'uso dei colori per sottolineare alcuni aspetti chiave. Allora, partiamo rapidamente. Leggo rapidamente la traduzione Mirum est, quindi c'è da meravigliarsi Quam, allora, di come Di ogni singolo giorno, quindi singulis diebus In urbe, ratio out constet, out videatur constare Che si traduce con Si possa giustificare, o si creda di poter giustificare, come lo si è impiegato. Quel come lo si è impiegato traduce ratio, che sarebbe una sorta di resa dei conti, no? Di quello che si è fatto. E poi dice Pluribus iunctis quen non constet, ovvero Se invece se ne prendono parecchi insieme, non lo si può più. Quindi mette in evidenza come all'interno della città si debba star dietro ad ogni singola attività, giorno per giorno. Mentre, considerando tanti giorni insieme, è impossibile farlo perché gli impegni sono enormi. Allora, andiamo avanti. Allora, ma se tu domandassi ad uno Oggi che cosa hai fatto? Respondiat ti risponderebbe Notate naturalmente l'uso appunto dell'interroges Che è un tu che non è semplicemente riferito al destinatario a fondano Ma è un tu generico, quasi per voler allargare il discorso ad un numero maggiore di lettori Quindi spia del fatto che lui non si sta rivolgendo solo a fondano Ma che questa lettera è destinata ad essere pubblicata Notiamo naturalmente anche l'uso del periodo ipotetico Allora, qui sta facendo tutto un elenco Quindi una enumerazione di azioni che sono state fatte In verde sono state indicate le azioni, tra virgolette, sane Diciamo così, moralmente ineccepibili che si svolgono a Roma In azzurro si è indicata la ripetizione in inizio frase, quindi l'anafora Del pronome ille In rosso invece l'uso appunto di questo tu generico Quindi leggiamo la traduzione Ti potrebbe quindi rispondere E qui invece la traduzione è Tutte queste occupazioni sono necessarie nel giorno in cui le disbreghi Ma se consideri che sono le medesime tutti i giorni Allora ti si mostrano in tutta la loro vacuità E soprattutto quando ti sei ritirato nella vita campestre Allora Tu un kenim subito ricordazio Quat dies quam frigidis rebus absumsi E quindi Allora infatti ci ripensi ed esclami Quanti giorni sprecati in facciande così insulse Allora qui L'uso di questo discorso diretto Dà un'idea di Diciamo di discorso medio Quindi dà un'idea di parlato In realtà anche questo è ben costruito a tavolino Torna a quest'uso delle seconde persone singolari Intendendo un tu generico Che ripeto Sottolinea il fatto che Primo si sta rivolgendo ad un pubblico molto vasto E quindi non semplicemente al suo amico fundano E ancora Arriviamo fino al paragrafo 4 Qua devinit mi Posco a milla un lentino meo Autulegua Liquid Autoscribo Auteziam corpori vacuo Cuius folturis animus Substinetur Allora Ed è quello che mi capita da quando Nella mia vita La di laurento Leggo qualcosa O scrivo O d'attendo anche a ristorare le mie forze fisiche Che costituiscono il sostegno di quelle dello spirito Non ascolto nulla Che poi mi penta di aver ascoltato E non dico nulla Che poi mi penta di aver detto Allora Andiamo brevemente a considerare alcuni aspetti Innanzitutto spia di una forte letterarietà del testo La presenza di questo poliptoto in incipit Constate con stare constate Che indica proprio la consapevolezza Della unitarietà di queste azioni Che vengono fatte giorno per giorno E che non servono a migliorare Diciamo così il cittadino In verde abbiamo detto sono azioni positive Andiamo a vedere di cosa si tratta Ufficio toga virilis Ufficio toga virilis Si fa riferimento all'assunzione della toga virile Che avveniva per un ragazzo all'età di 17 anni E segnava quindi Diciamo l'entrata nella maggiore età Gli sponsalia sono invece i fidanzamenti Infatti il verbo spondio vuol dire promettere Mentre le nozias sono le nozze Perché il verbo nubo vuol dire proprio sposare E si utilizzava Diciamo era il verbo che veniva utilizzato per le donne Mentre per l'uomo veniva utilizzato il verbo Duce reali quemuxorem Advocazio invece era l'assistenza che si prestava in tribunale Solitamente ad un amico Poi invece andiamo a vedere Diciamo cos'è che viene fatto all'interno della villa Cioè quali sono le attività Le attività diciamo intellettuali Che vengono praticate Out lego Cioè una lettura Out aliquid scribam La scrittura Out etiam corpori vacu L'attività fisica Ricordiamo che il verbo vacu vuol dire essere libero Quindi letteralmente sono libero Per le attività fisiche Per il corpo Oppure l'attività spirituale Cuius futuris animus susti natur Ancora Ci sono poi altri aspetti da considerare Abbiamo già detto il destinatario reale è fondano Però potenzialmente è un destinatario molto più ampio Infatti l'incipit è filosofico Quel mirum est E poi c'è quest'uso del tu generico E ancora un ultimo aspetto su cui ci si può soffermare È la presa di distanza da parte di Plinio il Giovane Dalle azioni negative Dice infatti Nid audio quod audisse Pudetto sottinteso Quindi non ascolto niente Che mi penta di aver ascoltato Nid dico quod exis Non dico niente Che mi penta di aver detto Nemo opud me quemquam sinistri Sermoni buscarpit Quindi nessuno Mi prende Diciamo mi ruba qualche parola Con dei discorsi poco adatti Nemi nemip se reprendo Quindi io non rimprovero nessuno E torniamo brevemente Quindi al discorso generale Allora Sempre spia della forte letteralità Allora notiamo in azzurro la presenza di questa figura etimologica Nil, nil, nemo, neminem, nullo, nulla, nullis Notiamo ancora più avanti Diciamo tutta questa presenza di frasi esclamative O rectam sinceram quevitam Tra l'altro va anche a mettere in evidenza Una dittologia O dulce ozio monestum que Un'altra dittologia Ac penne omni negozio pulcrius Qui invece notiamo l'antitesi ozio monnegozio E al tempo stesso la figura etimologica O mare, o litus Verum secretum que museion Con molta invenitis Con molta dictatis Qui abbiamo un parallelismo Con molta invenitis Con molta dictatis Ma anche la parola museion Che è una parola greca Che viene inserita all'interno del discorso invece in latino E diciamo quindi tutta una serie di elementi A partire appunto dalla costruzione del poliptoto Poi l'enumerazione per aspetti positivi L'anafora L'enumerazione degli aspetti negativi E così via Tutte spie del fatto che questa lettera È una lettera destinata alla pubblicazione Perché è costruita proprio in una maniera articolatissima Brevemente invece andiamo a vedere un'altra lettera Molto importante dell'epistorale Pliniano Che è invece una lettera ufficiale La lettera che Plinio scrive a Traiano Nel momento in cui Traiano Gli deve dare una risposta In merito ad una operazione da fare in Bitinia Plinio non sa come comportarsi in merito Ad alcuni cristiani Che sono stati denunciati E che devono essere condannati Scrive infatti Plinio A Traiano È mia abitudine un signore Deferire a te tutte le questioni In merito alle quali sono incerto Che infatti può meglio dirigere la mia titubanza O istruire la mia incompetenza Non ho mai preso parte di istruttori a carico dei cristiani Pertanto non so che cose Fino a quel punto si sia soliti punire o inquisire Ho anche assai dubitato Se si debba tener conto di qualche differenza di anni Se anche i fanciulli della più tenera età Badano trattati diversamente dagli uomini Nel piano del vigore Se si conceda grazia in seguito al pentimento Se a colui che sia stato comunque cristiano Non giovi affatto l'aver cessato di esserlo Se vada punito il nome di per sé stesso Pur se è esente da colpi Oppure le colpe connesse al nome Nel frattempo con coloro che mi venivano deferiti Quali cristiani Ho seguito questa procedura Minacciandole di pena capitale Quelli che perseveravano Li ho mandati a morte Infatti non dubitavo Che qualunque cosa confessassero Dovesse essere punita la loro pertinacia E la loro cocciuta ostinazione Ve ne furono altri affetti dalla medesima follia I quali poiché erano cittadini romani Ordinai che fossero rimandati a Roma Ben presto Poiché si accrebbero le imputazioni Come avviene di solito per il fatto stesso Di trattare tali questioni Mi capitarono innanzi i diversi casi Venne messo in circolazione un livello anonimo Che conteneva molti nomi Coloro che negavano di essere cristiani O di esserlo stati Riteni di doverli rimettere in libertà Quando dopo aver ripetuto quanto io formulavo Invocavano gli dèi e veneravano la tua immagine Che a questo scopo avevo fatto portare insieme I simulacri dei nomi E quando imprecavano contro Cristo Cosa che si dice sia impossibile ad ottenersi Da coloro che siano veramente cristiani Allora, cosa sta dicendo Plinio? Plinio si trova in difficoltà Perché ha preso delle decisioni in merito ai cristiani Ma non sa se abbia agito correttamente Innanzitutto dice di aver mandato a morte quei cristiani Di aver condannato quei cristiani Che si ostinavano a definirsi tali Quindi si ostinavano a non voler rinnegare il nomen cristianum Ricordiamo infatti che un capo di imputazione Era proprio il nomen Cioè definirsi cristiani E un altro capo di imputazione Era l'alesa maestà Perché questi cristiani Rifiutavano di venerare La figura dell'imperatore Che era connessa ovviamente al culto imperiale dovuto E allora Plinio dice di aver portato con sé L'immagine dell'imperatore Per cercare di Diciamo far Venerare questa figura A coloro i quali rinnegavano di essere stati cristiani Notiamo come Plinio parli espressamente Di una follia per coloro i quali perseverano In quello che lui ritiene essere un errore E quindi dimostra ovviamente Plinio Di non comprendere minimamente Le ragioni di questi cristiani Questi cristiani ovviamente si trovano in Bitini E quindi Plinio Che è governatore della Bitini Abbiamo detto tra il 111 e il 113 Deve prendere delle decisioni Ma ha bisogno del parere del suo imperatore La risposta di Traiano È piuttosto secca Che dice Actum quande puistimi secunde In excutiendis causis eorum Quei cristiani attedelati furant Secutus es Neque animi in universo maliqued Quasi certam forma mabeat Constituipotest Conquirem di non sunt Sedeferantur targuantur puniam di sunt Allora brevemente Quindi Plinio Tacito Allora Traiano sta rispondendo a Plinio Che appunto Non bisogna andare a cercare Questi cristiani Ma una volta che si autoaccusano Ovviamente bisogna punirli Chi negherà di essere cristiano Ovviamente deve essere comunque Lasciato perdere Non va quindi perseguito Quindi in poche parole Raccomanda Traiano Di non fare ricerca di cristiani Affini persecutori Quindi non vanno perseguitati Se denunciati e confessano Vanno puniti Ma non bisogna dar seguito A denunce anonime Ora Il testo di Traiano È quindi l'unica norma Sulle questioni dei cristiani Che noi abbiamo Si tratta di un Rescriptum imperiale Un rescriptum era proprio Una risposta dell'imperatore Che aveva un valore normativo È chiaro che Traiano Mostra una grande diffidenza Verso i cristiani Perché non li conosce Da molti pregiudizi Non li considera però Tanto pericolosi Da doverli perseguitare Ma vuole anche evitare L'applicazione di norme Apertamente anticristiane Perché ovviamente Non si vuole coprire di discredito E non vuole Che il suo nome Venga associato A delle persecuzioni Allora Importante è anche Il fatto che Plinio Sottolinea alcune peculiarità Che contraddistinguevano I cristiani Proprio tra gli anni 111 e 113 Quindi nell'età Traianea Innanzitutto Si parla del fatto Che i cristiani Fossero soliti Riunirsi Prima dell'alba E quindi Intonare un inno a Cristo E diciamo che Questo elemento Senz'altro Accomuna Questi cristiani Agli esseni Di cui Giuseppe Flavio Che come sappiamo Era stato deportato a Roma Dopo la guerra giudaica Aveva descritto Giuseppe Flavio infatti Aveva descritto Nella guerra giudaica Prima che si lavi il sole Non dicono una sola parola Su argomenti profani Ma soltanto Gli rivolgono certe Tradizionali preghiare Come supplicandolo Di sorgere Punto 2 I cristiani Si riunivano Per celebrare Per fare una celebrazione Questa celebrazione Prevedeva La consumazione Di un cibo comune E anche Giuseppe Flavio Riferisce a un elemento simile Scrive infatti Dopo che si sono seduti In silenzio Il panettiere Distribuisce in ordine I pani Il cuciniale serve Ad ognuno Un solo piatto Con una sola vivanda Prima di mangiare Il sacerdote Pronuncia una preghiera E nessuno può toccare Cibo prima della preghiera Dopo che hanno mangiato Quello pronuncia Un'altra preghiera Così al principio E alla fine Si rendono onore a Dio Come dispensatore della vita Queste notazioni Sono interessanti Perché dimostrano Appunto l'interesse Ma anche ripeto Il pregiudizio Nei confronti Di tutto ciò Che viene considerato Straniero Ovviamente Flavio Giuseppe Ne parla A proposito Del proprio popolo Quindi di qualcosa Che gli appartiene Essendo appunto lui Giudeo Ovviamente Non così Plinio E Traiano Rapidamente Diciamo All'interno Del discorso Della risposta Di Traiano Possiamo notare Alcuni termini Chiave Come il termine Autor Che si trova Proprio All'inizio Del Rescriptum Che è tradotto Con autore Ma potrebbe essere Anche tradotto Come garante Che viene infatti Da augeo Che vuol dire Accrescere Far aumentare Da cui appunto Avere successo Si sottolinea Anche questo principio Di tolleranza Di Traiano Che ovviamente È una tolleranza Solo strumentale Che serve a Traiano Per non Essere considerato Appunto Un persecutore E sicuramente Notiamo che lo stile Di Traiano È molto diverso Da quello di Plinio Perché Traiano Innanzitutto risponde In poche parole Quindi è un stile Molto più asciutto È un stile Molto più semplice Ed è composto Da termini Assolutamente semplici Soprattutto se lo mettiamo In contraposizione Con la lettera Fondaneo Che abbiamo letto prima